e siamo giunti a questo clou di questo pomeriggio buoni quattro anni sul miglio un vero HBD, Urali, Unica Griff, Urlo di Poggio e Unetual Gar Urlo di Poggio e anche Urali come sorpresa un vero HBD o Unetual Gar a meno così borbotte il totalizzatore ha retrato Unetual Gar che non partecipa all'angelo galoppa il tre Urali è questa la prima cosa via la macchina e si lotta per il comando con Urlo di Poggio che impegna un vero HBD per il comando poi Urali, Zack, Joe punta in avanti Marcello Vecchione con il suo Varen tredici e mezzo in lancio i due ancora a borbottare al completamento della piegata insiste l'urlo e dopo quattrocento quarto iniziale fila al comando ventotto e sette e davanti alle tribune urlo un vero la Zack poi Unica Griff riprendono contatto i due dei Minopoli seicento in quarantatré e mezzo da uno dodici e mezzo e Urali prende la via del largo dopo la rottura e sul rallentamento del leader Urali si migliora si va al completamento del mezzo miglio iniziale riparte Urlo di Poggio cinquantanove sette e Urali ora stazione al Salchi del leader i cavalli affrontano il penultimo rettilineo si va con i due fratellastri in pole position sono due Varen tredici e nove interessantissimo il chilometro va lì a cinquecento metri dalla conclusione urlo Urali un vero la Zack frazione impiegata in tredici e otto fanno uno ventisette e sette i tre quarti di miglio insiste Urali urlo sembra controllare retta d'arrivo urlo di Poggio al comando si elimina Urali scappa via Marcellino l'urlo l'urlo viene via Ulazac e un vero HBD controlla Marcellino controlla l'urlo è quello di Marcello Vecchione secondo un'ottima Ulazac Gio uno cinquantasei e nove uno tredici e uno l'urlo di Marcellino Vecchione insalchia questo ennesimo Varen pennellato al comando con un cost to cost notevole per senso tattico capacità di gestione ma soprattutto grinta finale uno e ottantasei la quota alla grande l'altra Varen di turno Ulazac Gio e insomma Varen di tutto di più linea lo studio grazie a tutti Grazie a tutti.